Il microfono Buonasera a tutti, noi siamo il coro della parrocchia San Pietro di Duraminis dove svolgiamo il servizio di animare la messa domenicale Per tutti noi il coro si inserisce in una realtà per noi molto importante l'oratorio Don Bosco, nostro punto di ritrovo non solo in cui proviamo e prepariamo i canti in vista delle celebrazioni ma anche e soprattutto un luogo in cui ritrovarci in amicizia e stare insieme a divertirci Il brano che andremo a proporvi si intitola È tempo di annunciare È la risposta alla domanda Cosa possiamo fare noi per migliorare il mondo? È la stessa domanda che nel nostro piccolo ci siamo fatti nel nostro oratore di cui facciamo parte Abbiamo la necessità di rimettere al centro della nostra vita Gesù perché solo con l'amore si respinge l'odio di questi tempi difficili Dobbiamo annunciare il suo amore con gioia e dobbiamo farlo adesso Grazie e buon ascolto Chiediamo a tutti davvero di rispettare anche nel silenzio i cori che si sono preparati e che ora ascolteremo in particolare quello di Nuraminis adesso quindi ecco magari lasciamo un po' le chiacchiere e davvero continuiamo in un clima di preghiera a questo momento Ripetiamo il canto Ripetiamo il canto Adesso è il tempo di riprendere il cammino, Gesù, di una vita piena della tua presenza. Adesso è il tempo di annunciare la parola che tu come luce hai lasciato per noi. Adesso è il tempo di riprendere il cammino, Gesù, di una vita piena della tua presenza. Adesso è il tempo di portare il predestrale nel mondo lavoro. Ma annuncieremo con la vita che tu sei Dio e sei vicino ad ogni uomo. Che niente al mondo ci separerà con la braccia forte del tuo amore. Annuncieremo con la vita che sei la vera roccia della nostra casa. E niente al mondo può discusere ciò che abbiamo costruito sulla tua parola. Adesso è il tempo di riprendere il cammino, Gesù, di una vita piena della tua presenza. Adesso è il tempo di annunciare la parola che tu come luce hai lasciato per noi. Adesso è il tempo di riprendere il cammino, Gesù, di una vita piena della tua presenza. Adesso è il tempo di portare per le strade del mondo l'amore. Adesso è il tempo di riprendere il cammino, Gesù, di una vita piena della tua presenza. Alöyleamo ti riprendere il cammino, Gesù, di una volta, 29 stanute i fine signori . Grazie a tutti i naoi con deiighs. Di fatto pozisica la visione, quindi è rai e verona messa,